A martedì 14 dicembre alla palestra di Maserata faremo questa serata di difesa personale, quindi un aiuto per tutte le persone che vogliono venire, sia per una difesa personale classica per essere un po' più sicuri con se stessi e anche per sentirsi un po' più sicuri in casa. La nuova iniziativa dell'associazione Furti in Corso coinvolge gli istruttori di difesa personale Carlo Pelloni per una serata destinata a ripetersi nei prossimi mesi, finalizzata a fornire ai cittadini consigli giusti per affrontare situazioni di pericolo. Si dedica alla difesa, non all'offesa, questo è il punto definitivo. Come posso reagire se mi trovo davanti un ladro? Quindi sia capire il linguaggio, i segni che mi dà la persona che ho davanti o se purtroppo se mi devo trovare in una situazione dove il malintenzionato, che può essere il ladro ma può essere anche un'aggressione esterna al discorso dei furti, possa comunque aiutarmi a difendermi e non essere succube di queste violenze. Intanto Furti in Corso, dopo lo stop di qualche settimana fa, è riuscita a far ripartire l'iniziativa della vigilanza autofinanziata dai cittadini. Oggettivamente siamo riusciti a far partire la vigilanza notturna con grande piacere e con grande sacrificio di tutti. Ci siamo riusciti anche ad accontentare dei gruppi che hanno chiesto in altri comuni, anche di Treviso, anche di Paese e via dicendo, che ci avevano chiesto, quindi diciamo prendendo un po' più di richieste su delle vie un po' più concentrate. Non siamo riusciti per ora a far partire il serale perché era quello che in assoluto variava di prezzo in maniera eccessiva. E per il prossimo anno Demma ha un altro progetto pronto da proporre ai sindaci e quelli chiede un supporto per aiutare quei concittadini che hanno subito ingenti danni a causa dei ladri. Facendo dei piccoli bandi per aiutare quelle persone che vengono colte da danni incredibili per i furti e non hanno, io mi ritrovo molto in questa situazione, con delle persone che non hanno oggettivamente il denaro per riparare ai danni.